Ciao a tutti ragazzi, sono Cero Fizz, questa è qui con Chiaretta Blade, sempre su Ultra Vanilla. Hai le torce? Sì. Io sto finendo la spada, non mi faccio. E anch'io? Io ho quella normale. Poi ho quella temperata. Ho quella normale, ho capito. Librerie! Perfetto. Perché non dobbiamo fare il libro per l'incenti interiore? Ce l'è un libro, ce l'abbiamo già un libro. Ah sì, ce l'abbiamo già? Un libro sì. Qui c'è qualcosa che... Speed, potenzione dei proiettili, eccetera. Di qua, io guardo di qua. In teoria qui non dovrebbe esserci cose molto interessanti. Andiamo a guardare ancora più sotto. Aiuto. Guarda c'è niente. C'è un blocco di rezzo, vuoi che lo prendo? Eh, ok, sono finito. Una carolta, possiamo fare la motivazione. Anche adesso ce l'abbiamo già. Eh? Ce l'abbiamo già, la carolta. Mi aiuti un secondo, sono un attimo in... Eh sì, mi stanno attaccando i ragni, i ragni. Ma i ragni non sono niente. Ok, grazie credo. Mi aiuta molto. Aspetta, sono ancora incastrato con i ragni. Mi stanno rimpendo di ragnatele. Sì, però adesso ho l'armatura più forte. Aiuto! Stanno massacrando sti ragni del cavolo. Perché la spada è andata lì? La spada è andata a sinistra nella seconda mano. Aiuto! Che fa F? Forse... Ah, F? Sì. Ok. Però è più violenta perché c'è le torce. Sono morto. Almeno sono attaccata rapidamente. E io sono ancora qui, quindi mi aiuti un secondo. Come faccio? Sei lontanissimo. C'è un alambicco! E tu che comunque non sono attivi, quindi non ci si potrebbe trasportare. C'è un alambicco. Quindi ti consiglio di ucciderti, di venire qui. Ma io voglio quell'alambicco. Ah, la piglia. È lì. Corri! L'ho preso? Sì, lo prendo. Vediamo cosa vuoi fare qui. Ci sono tante pozioni strambe che prenderò. Ok, faccio un enchantment in tempo. Tutututututu. Tutututu. Bam! Enchantment table. Ok, ho preso un pezzo di bella roba. Ora siamo un attimo di vento. Un pezzo di bella roba. Ok, allora. Ho un problema esistenziale. Cioè? Sto mangiando carne in marcia. Sono da sola senza blocchi. Buttati nella lava e vieni qui. Ma non voglio, voglio esistrarlo. questo posto certo c'è una guerra accanto a casa si oddio ho sentito la strega meglio che vengo ok va bene ammazzamila allora lo zaino si fa con la lana oddio o meno che c'è la lana ammazzamila ok ho fatto gli zaini allora intere lo metto per terra poi lo rompo e dovrei averlo messo poi lo rimetto per terra si ok ho capito come funziona allora io adesso ci metto tipo non so un pesce poi lo rompo mentre faccio shift e adesso lo equipaggiato anche se non si vede per via delle shaders credo poi shift e tasto adesso si rimette giù tieni anche per te fai shift e poi rompilo e rompilo adesso dovresti averlo messo poi fai shift e non si vede nessuna parte schiaccia z ok funziona abbiamo lo zaino perfetto adesso metto qui l'incudine poi c'è l'entitable fortissimo la prima cosa ripariamo questa spada qui qui dietro vediamo se si può riparare la spada questa si si può perfetto questa qui non mi interessa che è successo hai messo la musica che spaventa chissà cosa ne abbiamo poi possiamo usare i lapislazuli per iniziare a te 1 sharpness 1 ok e poi l'altro c'è nessuno e basta sei pronta sta diventando notte quindi andiamo ma dove vuoi andare nel nether cercare una fortezza ma il blaze ce l'abbiamo sotto casa è vero e vabbè fa niente andiamo comunque nel nether dove sei che spavento un ciccio dove sei appena fuori casa vicino alla miniera accipicchia ah è vero che questi iscritti qui spavano la lava sta saltellando sopra il portale vedi alla si è comunque se vivi retone dei cavalli sono spariti magari in una fortezza possiamo trovare qualcosa tipo una se non sono spariti sono usciti ah ma qua c'era un blocco ecco vabbè andiamo verso incredibile avventure infernali non ci si vede niente ah si picchia e non ho neanche portato le torce io vedo perché tu no è perché c'ho le shader se le devo togliere non si vede nulla e siamo sulla so who's hand tra tutti i posti in cui potevamo apparire yeah ce l'abbiamo fatta hai ancora le shader no no e cos'è quella cosa che vedi tutto diverso no è una texture che casino che c'è guarda di quanta gente che fantasmi che fanno si sta picchiando un fantasma superiore dato passa una moto fortissima cosa ha dato una testa per il tempo ma vedere incredibile ho fatto una grande idea sto cercando di risalire perché siamo sulla so non ho portato le frecce ma quanti ce n'è ok mamma mia perchè il pigman è arrabbiato io ho fatto nulla ho fatto qualcosa però non so cosa aiuto 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 ok ok è morti tutti no mi ha dato fuoco di nuovo sta morto ma che testi ci hanno dato quelli lì tu ce l'hai ancora soul band in anima quindi devo fare la polvere di anima no l'ho schiacciata e tipo è andata via guarda provo a schiacciarne una sono maledetto anche io penso e quindi e quindi boh fa 20 minuti a fare error no davvero ma non lo so spero di no vediamo un po' boh possiamo proprio andare in giallo sotto a casa e uccidere i blazer così ci danno tante le blazer che a noi servivano quelle però tutto questo è nel prossimo video ciao a tutti ops scusa sei finita la trappola ciao